Siamo nel sito produttivo di General Electric a Stezzano, provincia di Bergamo. E' qui che da inizio 2023 si produce SMR7, il nuovo quadro di mea tensione secondaria, green e digitale, per il mercato d'Italia, Spagna e Portogallo. Da anni questo sito produttivo rappresenta un'eccellenza nel settore della mea tensione, assicurando la qualità dei prodotti e l'affidabilità delle consegne. La transizione in corso è richiesta sia dal mercato che dalle regolamentazioni dei vari organi internazionali. Ma perché parliamo di innovazione green e digitale? SMR7 è una rivoluzione per la distribuzione elettrica, in grado di garantire maggiore sostenibilità ed efficienza operativa. Il nuovo quadro introduce un'importante novità rispetto all'attuale gamma, ossia la sostituzione del gas SF6, potenzialmente clima al tirante, con un sistema basato al 100% su aria e vuoto. La tecnologia brevettata Shunt Vacuum Interruption ci ha permesso di sopperire all'utilizzo del gas combinando l'isolamento in aria all'interruzione di archi elettrici in vuoto. L'aria ha un global warming potential pari a zero, è chiaramente sostenibile per l'ambiente ed è pensata per il futuro, libera da vincoli normativi e senza ulteriori costi nei processi di smaltimento. Oltre ad essere green, SM Airset nasce nativamente digitale, con connessione IoT per il monitoraggio delle apparecchiature, pronto per la manutenzione predittiva e preventiva e perfettamente integrato nell'architettura EcoStruxure di Schneider Electric. L'innovazione della gamma SM Airset è anche nei processi industriali, con una linea dedicata e l'introduzione di nuovi macchinari di produzione, che ci permetteranno di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Questo è SM Airset, innovazione alimentata dall'aria e dal digitale.